Il campionato sta per ripartire, quindi prima di fiondarci sulle varie analisi di formazione con vista a Milan abbiamo pensato fosse cosa buona e giusta analizzare queste prime sette partite di campionato sotto un altro punto di vista. Cherudinese stia andando forte, lo dicono i numeri, lo racconta la classifica, i bianconeri sono probabilmente la rivelazione di questa prima parte di stagione, ma per comprendere ancora meglio il lavoro svolto da Mr. Rooney e il suo staff bisogna andare a vedere da dove era partita questa squadra soprattutto analizzando e comparando le prime sette gare di questo campionato con le prime sette dell'anno scorso. Un dato è lampante, i 13 punti conquistati portano ad un dato eclatante, più 9 rispetto all'annata scorsa quando la squadra allora allenata da Andrea Sottil era 17esima con solo 4 punti ottenuti. In questa speciale classifica che paragona appunto le due stagioni, l'Udinese è prima e guarda tutti dall'alto in basso, un lavoro splendido che però ovviamente è solo all'inizio. Non solo l'Udinese chiaramente, anche l'Empoli per esempio sta stupendo con un più sette rispetto a 365 giorni fa, merito del lavoro di Daversa rigeneratosi dopo la terribile fine dell'esperienza con il Lecce. Ottimo lavoro poi anche per la Lazio di Baroni che completa il podio delle migliori tre con un più 6 rispetto alla stagione 23-24 con Sarri in panchina fuori dal podio, ma stanno facendo comunque bene anche il Cagliari con un più 4, il Torino e il Napoli. Male invece il Milan, la peggiore con addirittura 7 punti in meno rispetto ad un anno fa quando i rossoneri di Pioli pur contestato veleggiavano a quota 18 punti. Penultimo posto qui per il Lecce che da rivelazione è passata ad essere delusione, meno 6 rispetto al campionato scorso, peggiora anche il Monza che un anno fa aveva 9 punti mentre oggi ne ha solo 4 e così così fanno anche Inter e Roma, soprattutto i nerazzurri passati da 18 a 14.